ma d'emergenza o no? Allora, per quello che riguarda questo particolare stato di emergenza è impossibile avere dei dati, visto che è stato detto ieri e quindi nella giornata di domani avremo i nuovi dati. Diciamo che rispetto allo stato di emergenza l'italiano si è posto, a seconda di quando è stato proclamato, in maniera differente. Ovviamente lo soffre più che condividerlo e ne capisce in maggioranza, ne capiscono l'utilità e la presenza, la dovuta presenza. Quello che stimola più che altro è un sentimento di paura perché ovviamente nel momento in cui si indica uno stato di emergenza vuol dire che andiamo incontro a qualcosa di nuovo, di pericoloso e questo ovviamente alla luce di quello che sono il trend delle vaccinazioni, delle dosi booster, delle vaccinazioni iniziate anche sui bambini tra i 5 e gli 11 anni ovviamente spaventa un pochino le persone e allontana da quelli che potrebbero essere i contenuti di informazioni utili per essere maggiormente convincenti a favorire la vaccinazione perché ovviamente uno stato di emergenza con un tasso di vaccinazioni così alto spaventa e allontana anche dal desiderio di poter continuare su questa strada perché ovviamente andrebbero spiegate bene le motivazioni sappiamo da quello che ci dice la scienza che i vaccinati corrono meno rischi a parte se hanno delle altre patologie che non dovrebbero essere ospedalizzati o con finali tragici tuttavia è difficile spiegare alle persone che lo stato di emergenza contemporaneamente ai vaccini viaggiano su linee parallele Eh, sì, insomma, questa è la situazione noi abbiamo sempre sperato anche in questi mesi di liberarci il prima possibile di questa pandemia purtroppo morde ancora poco fa il Ministro della Salute Speranza ha fatto sapere che ovviamente la sfida col virus è ancora aperta che i numeri sono in crescita e che oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri saranno prese ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo e questo fa pensare appunto a questa proroga largamente anticipata dai giornali